Nuovo sito internet per il comune di Quornier, come mai questa decisione? Ma intanto stiamo seguendo un progetto di informatizzazione che è in atto ormai da due anni e che cerca in qualche modo di renderci più vicini alla cittadinanza. Infatti c'è un progetto che si chiama Quornier più vicina. Abbiamo già fatto diverse iniziative in tal senso. Questo era un punto di arrivo e un punto di partenza. Il sito nuovo ha più contenuti, è più facilmente accessibile da parte degli utenti e dei cittadini, risponde alla normativa sulla trasparenza e a tutte le richieste di accessibilità che la norma richiede e soprattutto stiamo cercando di renderlo, ed è standard, con altri siti di altri comuni del Canavese perché l'idea, almeno nostra ma anche di altri sindaci, è quella di avere una porta d'accesso comune a tutti i cittadini per un territorio più vasto, cioè arrivare sul sito del comune nello stesso modo da punti diversi e da comuni diversi. Abbiamo deciso di inserire anche la dicitura porta del Gran Paradiso perché Quornier è all'imbocco del Parco Nazionale Gran Paradiso. Credo che sia una risorsa da valorizzare, credo si debba lavorare con tutti i comuni della valle insieme, in sinergia per valorizzare questa risorsa che secondo me è una delle risorse fondamentali per il rilancio anche di questo nostro territorio. Quale differenza c'è tra il nuovo sito internet e il rispetto al precedente? Allora, il nuovo sito web rispetta tutte le normative previste dalla legge italiana, in particolare la legge stanca e la legge sulla trasparenza amministrativa, di cui è il decreto 33 del 2013. In particolare rispetta i requisiti di accessibilità, per esempio il nostro sito adesso è anche accessibile ai non vedenti, chiaramente con particolari strumentazioni e poi cosa possiamo dire, contiene già su interno le informazioni messe nelle singole voci esattamente come prevede la normativa, prevede già per esempio la possibilità di avere un visore per poter leggere anche i file in Word o in Excel oppure il PDF per chi ha il computer con ancora non il reader scaricato che abbiamo anche ricevuto proprio questa mattina, che è stato accettato da CNIPA, che è l'ente certificatore italiano, che il nostro sito rispecchia perfettamente tutta la normativa italiana in materia, quindi è arrivato fresco questa mattina. È già stato inserito dalla ditta che fornisce il nuovo sito sul sito stesso, in basso a destra c'è proprio questo logo. Abbiamo superato tutte le prove della bussola nei siti della pubblica amministrazione italiana, ancorché in alcuni report non risulta ancora perché la verifica viene fatta a campione una volta alla settimana, ogni 15 giorni, però confidiamo che li superiamo perché tanto per il resto è tutto a posto. Grazie a tutti.